buonasera a tutti ben trovati siamo ad agosto i primi di agosto del 2023 io sono in ferie e mi sono messo a sistemare il mio garage e ho trovato una cosa del 1999 24 anni fa per arrotondare nel 1999 anzi nel 1998 sono andato a fare un tirocinio in germania come traduttore del tedesco tecnico automobilistico perché c'era un'esigenza da parte di una grande causa automobilistica di traduttori che sopperissero alla quantità di lavoro che era notevole all'epoca quindi servirono dei traduttori per un breve periodo di tempo circa due anni per tradurre i manuali delle nuove auto e delle auto modificate in quel periodo con l'introduzione di nuovi sistemi quindi c'è stato una specie di fermento quindi servivano dei traduttori bene io sono andato a fare un tirocinio e con l'aiuto di una traduttrice tedesca ovviamente è di una mia amica che io conoscevo siamo stati qualche giorno a fare questo tirocinio e siamo stati praticamente testati per un mese durante questo mese ci siamo resi conto che i dizionari che ci fornivano il normale editoria italiana non erano sufficienti cioè noi ci siamo procurati tutti i dizionari tecnici possibili esistenti all'epoca ciò nonostante le nostre traduzioni non andavano bene perché mancavano i termini specifici quindi noi mano a mano che ritornavano delle note perché per un mese siamo stati controllati dal capo traduttore di un'agenzia che si occupava proprio di ricevere questi manuali di restituirli tradotti in italiano questa persona è stata pazientissima e ci ha fatto tradurre di tutto in quel mese proprio per farci capire i termini noi piano piano ci siamo creati il nostro dizionario e l'abbiamo messo per iscritto eccolo qua l'ho trovato questa è la terza edizione pensate l'immaggio del 99 questo dizionario è stato strutturato a rubrica che significa professor significa se io lo vado ad aprire vedete è fatto in maniera da essere più facilmente consultabile l'abbiamo usato tantissimo questa è l'ultima versione sembra nuova perché la terza l'abbiamo prodotta qualche mese prima che finisse il nostro rapporto con questa grande di casa automobilistica con il suo servizio di traduzioni bene l'ho ritrovato non ho trovato il file credo che si tratti di un file di word le prime versioni di word non sono riuscito a trovarlo sono passati 24 anni ho cercato tutte le pennette possibili immaginabili ho fatto la scansione di tutte le pagine l'ho trasformata in pdf e adesso sarà la quarta edizione sarà identica alla terza con lo stesso sistema quindi è consigliabile stamparlo e tagliarlo in modo tale che venga vedete venga a forma di rubrica vedete ok così almeno è di più facile consultazione lo metto a disposizione potrebbe essere utile visto che è stato un lavoro duro che mi ricorda un periodo bello della mia vita questo è il dizionario tecnico automobilistico l'ho intitolato mb così vedete anche sulla copertina è diversa da quello che vi ho fatto vedere così si capisce anche di quale casa automobilistica si è trattato vale per tutte le altre cosa significa che le altre case automobilistiche non vi dico i nomi però utilizzano gli stessi termini ok io vi ringrazio spero di aver fatto questa gradita anche con questo filmato questo filmato comparirà come collegamento nella pagina iniziale del dizionario così chiunque voglia questa spiegazione basta che inquadri il codice e qr e così avrà una spiegazione di questo dizionario tecnico automobilistico tedesco italiano ringrazio claudia jersenbeck che per due anni mi ha aiutato con il lavoro di traduzione lei traduceva io sistemavo e vedevo i termini particolari perché magari io ero più esperto in ambito automobilistico lei ovviamente traduceva dal tedesco all'italiano vi ringrazio grazie a claudia comparirà anche il suo nome anche lei è l'autrice di questo dizionario e i proventi che saranno pochi perché sarà un prezzo bassissimo saranno divisi fra i due autori ok buona serata a tutti